Dal primo luglio saranno 29 i contratti in essere in Casavellino, solo 6 elementi saluteranno l'Irpigna, tra loro Totò Di Gaudio, l'esterno ex Parme Verona che ha vissuto all'ombra del Partegno due stagioni con più ombre che luci, chiuderà la sua avventura. 860 minuti ed un gol quest'anno contro il Foggia. Saluterà i lupi Diego Gambale che con la retrocessione del Montevarchi in Serie D si svincolerà, così come Edoardo Sottini che ritornerà all'Inter. Andrei Mocanu, Antonio Pizzella e Mario Perrone saranno liberi da vincoli contrattuali. Un anno di contratto ancora per Ricciardo Marcone, Simone Auriletto, i terzini Moller Ricciardi e Fabio Tito, il rientrante Gianmaria Zanandrea, reduce dalla retrocessione con il Piacenza, Federico Casarini, Daniele Franco, Marco Caretto, Antonio Matera ma anche Tommaso Ceccarelli, Claudio Micoschi rispettivamente a Picerno ed Andrea nella seconda parte del torneo, Giuseppe Guadagni e Mamadou Canute, gli attaccanti Jacopo Murano, Ral Potenza, Vincenzo Plescia, Raffaele Russo, tre più positivi in questo torneo e Marcello Trotta. Dieci, i giocatori scadenza nel 2025, i centrali difensivi Ramzi Aia, Simone Benedetti, così come Lorenzo Maretti e Julian Illanesh, il terzino Agostino Rizzo, ma anche Jacopo Dall'Oglio, Davide Mazzocco, gli attaccanti Michele Marconi e Mamadou Tuncara. Scadenza nel 2026 solo per due elementi, il portiere Pasquale Pane ed il centrocampista Vincenzo Maisto. Un lavoro importante è quello che dovrà essere fatto da parte del nuovo staff. Di sicuro ci saranno situazioni opposte, come quella difficile relativa a Plescia, che hanno disputato la gran stagione tra Carrara e Piacenza, a quella di Ceccarelli positiva con la maglia del Picerno. Vedremo come si evolverà la situazione, fatto sta che come lo scorso anno ci sarà molto da lavorare.